Una buona giornata a tutti e ben ritrovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo.com. Andiamo a vedere la situazione per mercoledì perché una circolazione depressionaria posizionata sull'Europa occidentale causerà un veloce peggioramento al nord con rovesce temporali tra il pomeriggio e la serata. Meglio invece al centro-sud con solamente qualche nube in acqua di passaggio. Ma prima guardiamo le temperature minime perché i valori rimarranno generalmente stazionari, compresi tra 13 e 16 gradi, punte anche di 17 gradi sulla Sicilia così come sulla Puglia. Andiamo poi a vedere le temperature massime perché saranno gradevoli in particolar modo sulle pianure del Triveneto, gran parte anche della parte tirrenica, punte di 26 gradi, un po' più fresco solamente all'estremo nord-ovest. Ma entriamo nel dettaglio della previsione iniziando dalle regioni settentrionali, i rovesci e i temporali che interesseranno dapprima le regioni nord-ovest, poi durante la serata anche gran parte del Triveneto. Attenzione a fenomeni localmente di forte intensità, più asciutto invece sulla Romagna. Andiamo al centro Italia perché qui la giornata tuttossomata sarà buona, con cieli prevalentemente soleggiati, durante il pomeriggio qualche nube alta di passaggio, ma senza fenomeni, solamente qualche isolato temporale sull'Appennino centrale. Al sud Italia alta pressione in rinforzo, le temperature anche in aumento, una giornata che sarà ben soleggiata su tutte le regioni, così come anche le due isole maggiori, insomma il clima rimarrà gradevole. Per ulteriori informazioni vi rimando al nostro sito www.trebimeteo.com Grazie a tutti.